L'associazione Bully Guard all'Occitano Darsi da Fare inizia le proprie attività nel 2015, tramite l'iniziativa di un gruppo di giovani under 30 residenti a Ostana, un piccolo paese nell'Alta Valpò in provincia di Cuneo. Ed è proprio il Darsi da Fare che ha portato il paese a rinascere dopo il massiccio abbandono iniziato nel secondo dopoguerra, un tracollo che, partendo da una popolazione di più di 1100 abitanti dell'inizio novecento, ha raggiunto il suo apice negli anni Ottanta, con soli cinque residenti. Tuttavia, tramite un costante e intenso impegno delle amministrazioni comunali, che si sono susseguite a partire dal 1985, Ostana ha intrapreso un cammino di crescita e sviluppo, basato sulla tutela dell'architettura alpina tradizionale e sulla valorizzazione della cultura occitana. Attorno a questi pilastri, dunque, si sviluppa l'attività dell'Associazione Bouligar, che grazie al supporto di un comitato scientifico propone un'offerta culturale di alto livello nella Valpò, spaziando dalle arti visive, pittura, scultura e cinema, alla letteratura e cultura occitana, alla divulgazione scientifica, senza però trascurare l'organizzazione di momenti di carattere ludico, ricreativo e sociale. Eventi di rilievo nel primo anno di attività sono stati diversi. Primo tra tutti la mostra d'arte La Poesia del Vero, una panoramica sul paesaggio montano dall'Ottocento al Contemporaneo, che ha registrato più di mille visitatori. Altra iniziativa di spicco è stata la proiezione dei documentari selezionati per il Babel Film Festival, concorso internazionale per il cinema delle lingue minoritarie. L'associazione ha inoltre contribuito alla realizzazione dell'edizione 2016 del Premio Stana, scrittura in lingua madre, manifestazione che vede l'intervento di importanti scrittori operanti nell'ambito delle lingue minoritarie provenienti da tutto il mondo. L'associazione si avvale per l'implementazione delle proprie iniziative del centro polifunzionale L'Upportuno, realizzato in Borgata Sant'Antonio a partire dal 2013, tramite l'accesso a specifiche misure del piano di sviluppo rurale finalizzate al recupero di borgate alpine. La struttura, nata da un'idea progettuale del Politecnico di Torino, dispone di numerosi locali, adatti a tenere lezioni, convegni, esposizioni artistiche e fotografiche e serate danzanti. Durante lo svolgimento delle attività è inoltre possibile usufruire di uno spazio bar, dal quale si può godere del caratteristico panorama offerto dallo skyline del Monviso. L'offerta ricettiva è integrata dalla presenza di una foresteria, che può essere utilizzata non solo in occasione delle iniziative proposte dall'associazione, ma può anche essere un ottimo punto di appoggio per gruppi o famiglie che vogliono passare un weekend di svago immersi negli splendidi paesaggi di Ostana. L'associazione Booligar è alla continua ricerca di partner e soggetti, con i quali collaborare con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la propria attività e raggiungere fasce di pubblico più ampie. Il giorno è l'11 giugno, l'anno è il 1969, luogo a Torino, via Donati 27. In quella sera di giugno un gruppo di amici piemontesi si ritrovano a casa di Renzo Gandolfo e danno vita al Centro Studi Piemontesi, l'Accadio Studi Piemonteis, per studiare, dare importanza, far conoscere la cultura e la civiltà del Piemonte e degli stati sabaudi. Il verbale di quella serata, scritto a mano in piemontese da Gianrenzo Clivio, uno già dei cervelli in fuga, un piemontese di Harvard, Boston e poi del Canada, fa questo verbale e la chiusa è in qualche modo anche un programma etico. E da galantom as suzzinio, da galantuomini si sottoscrivono e seguono le firme con Gandolfo e Clivio, c'è Gaudenzio Bono, Giuseppe Fulcheri, Dino Gribaudi, Camillo Obrero, Censin Pic, Tavo Burat, Nicola, Iaco Calleri. Da quel giorno siamo quasi a 50 anni passati, l'attività del Centro Studi Piemontesi è proseguita sempre con grande intensità. Nelle nostre sale, oggi siamo in via Ottavio Revelle XV, sono nate opere storiografiche molto importanti. Cito soltanto il grande epistolario di Massimo D'Azeglio, previsto in 12 volume, è uscito in questi giorni il volume nono, curato da uno studioso francese, Georges Virlogeux, e il repertorio etimologico piemontese. Il dizionario, sono circa mille pagine, che racconta l'origine, la storia delle parole piemontesi. Nel 1972 nasce quello che è un po' il fiore all'occhiello nostro, la rivista Studi Piemontesi, una rivista semestrale interdisciplinare, oggi diretta da Rosanna Roccia, che è anche una distribuzione internazionale. Studi Piemontesi è in qualche modo il cardine attorno a cui ruota l'attività del Centro Studi Piemontesi, attorno a cui ruotano le collane editoriali. A 45 anni, nel 2016, sono state prodotte nella rivista, che è arrivata a circa 90 volumi, sono state prodotte circa 30.000 pagine. Tra i collaboratori, per non fare torto ai viventi, possiamo ricordare qualcuno di coloro che sono scomparsi, Norberto Bobbio, Galante Garrone, Massimo Mila, Argan, Firpo e tanti altri nomi di primissimo piano della cultura internazionale e nazionale. Studi Piemontesi, non per caso, guarda alla cultura piemontese, alla civiltà del Piemonte, alla storia, alla lingua, alla letteratura, all'interno di coordinate declinate su un piano internazionale, su un piano europeo, ma anche su un piano mondiale, perché la rivista, caso quasi unico, ha una diffusione in tutte le principali università americane e in molte università di tutto il mondo. All'interno, oltre agli articoli di approfondimento, ci sono recensioni e informazioni sulla vita culturale piemontese, direi a 360 gradi. Io ricordo l'indirizzo, Via Ottavio Revel 15, dove c'è anche la biblioteca storica, e vorrei anche ricordare il sito internet www.studipiemontesi.it, dove sono trovate tutte le attività, oltre alle attività editoriali, facciamo conferenze, convegni e giorno per giorno ci sono nel sito le nostre attività, oltre che l'informazione che mandiamo a tutti i circa 800 soci che abbiamo a Torino, in Piemonte, in Italia e nel mondo, anche in Argentina, dove ci sono la grande comunità dei piemontesi. Il fondatore del Centro Studi Piemontesi, Renzo Gandolfo, al quale è intitolata Una via nel centro di Torino, ha lasciato scritto in un articolo, che è in qualche modo il suo testamento spirituale, che nessuna civiltà ha mai fiorito senza drappò, vale a dire senza bandiere, senza gridi di battaglia e di raccolta, attorno ai quali raccogliersi. Questi drappò, in qualche modo, il Centro Studi Piemontesi li mantiene vivi e li porta avanti per il futuro. Sono Demetrio Zampieri, un volontario dell'Associazione Amici Culturali della Casa dei Pini, qui presente con la Presidente Silvina Castello. L'Associazione è presente da più di dieci anni, è nata sulla iniziale generosità di alcuni residenti e parenti che avevano il desiderio di contribuire con donazioni economiche. Questo per migliorare il benessere di tutti i residenti della struttura. Così oggi, grazie alla presenza continua di volontari, siamo circa una quarantina, ci alterniamo con compiti diversi. Abbiamo raggiunto così obiettivi importanti per il miglioramento della residenza della Casa dei Pini di San Maurizio Canavese. In particolare voglio evidenziare quali sono stati i risultati che in questi dieci anni sono stati raggiunti. La riqualificazione dell'area verde, che è antistante la residenza. Abbiamo creato un giardino attrezzato, chiamato così il giardino delle chiacchiere, per poter accogliere i residenti in un momento di incontro e di scambio relazionale. E poi all'esterno abbiamo anche creato un graffito molto colorato, personalizzato, all'ingresso per permettere alle persone che escono, i residenti, di ritrovarsi la via del ritorno. Poi ci siamo dedicati all'interno anche con ristrutturazione di arredi, con la sala polivalente e questa è stata come nome a un volontario, Mario Vota. Di seguito abbiamo continuato con gli arredi del salone ristorante, che aveva bisogno di un restyling e qui anche per migliorare la qualità interna del momento del pranzo e della cena. È stata grazie all'intervento di un residente interno che abbiamo nominato come Massabruno, che è stato il donatore. Per di più abbiamo anche creato poi dei concentratori di ossigeno, sempre per un'emergenza, e in tutte le stanze ci siamo permessi di poter portare televisori e naturalmente un'antenna centralizzata. Questo l'abbiamo raggiunto sempre grazie a donazioni, l'abbiamo raggiunto grazie anche a interventi esterni che abbiamo fatto con delle iniziative nostre per raccogliere eventualmente i fondi. Qui la Presidente in effetti è molto attiva in questo campo e anche con varie iniziative. L'ultima insomma si è andati anche ad Assisi e quindi abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Anche poi abbiamo creato anche attività di laboratorio interne, che adesso non sto ad elencare, ma possono essere l'attività di ginnastica dolce e un giardinaggio addirittura fatto all'esterno con la sinergia di ragazzini delle elementari di San Maurizio Canavese, così anche per fare scambio tra gli anziani e i giovani. Dobbiamo poi anche dire che i nostri miglioramenti sono in continuo fase di lavoro. Collaboriamo anche col CIS di Ciriè, che è l'ente pubblico gestore dei servizi socioassistenziali nel Ciriècese, a fine di promuovere un migliore conoscenza sul problema degli anziani non autosufficienti da malattie deneggerative, per esempio l'Azheimer. Collaboriamo inoltre con diverse associazioni di volontariato, Avus, di San Maurizio Canavese. Quotidianamente il servizio è il trasporto rivolto a persone in difficoltà motorie che necessitano di accompagnamento verso i vari luoghi di cura. Se volete informazione sulla nostra associazione, contattateci su Facebook Associazione Culturale Amici Casa dei Pini. Grazie. Buongiorno, sono Giuseppina Sabatucci, attuale presidente della FIDAPA Sezione Torino. La FIDAPA è un movimento di opinione che è in tutto il mondo, con 33.000 socie e 13.000 in Italia. Da anni, dal 1930, ci occupiamo della promozione delle donne a tutti i livelli e oggi con la sezione sono qui per promuovere, per lanciare soprattutto il nostro progetto che è nel contesto della violenza agita sulle donne. ed è un discorso che proprio riguarda la pubblicità e come un linguaggio molto diffuso nella nostra società. Noi facciamo, lanciamo un progetto estremamente semplice, almeno in apparenza, e molto concreto. Molto è stato detto su questo e noi vorremmo però proporre quanto segue. Non compriamo più noi donne, per un certo periodo, quello utile, i prodotti che vengono reclamizzati con pubblicità lessive della dignità delle donne. La dignità delle donne che viene lesta, facendo della donna un oggetto, un possesso, un essere inferiore, una discriminazione di genere, quindi a to cure. Poi vogliamo proporre anche alle agenzie pubblicitarie di utilizzare questo loro tipo di linguaggio, che parla la pancia, parla le parti più intime, le parti più razionali, di utilizzare questo loro linguaggio proprio per promuovere il superamento dello stereotipo di genere. Noi non facciamo commenti, non vogliamo assolutamente entrare in merito sulla qualità dei prodotti. Il discorso è che invitiamo a non acquistare un prodotto che abbia quella pubblicità. A questo punto, se questa pubblicità non porta più gli emolumenti che l'agenzia spera di avere, sicuramente le agenzie chiederanno un altro tipo di pubblicità. Questo è quello che ospichiamo. Sì, e naturalmente nell'ambito del progetto, il progetto è assolutamente molto, molto, molto ambizioso, ce ne rendiamo conto. Non siamo ovviamente l'unica associazione che si è occupata di questo argomento. Ci sono, a livello legale, a livello comunale, ci sono molte iniziative, non ultima la firma del protocollo a livello nazionale, fra l'Istituto di Autoregolamentazione Pubblicitaria, lo IAP e l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ha appunto siglato questo protocollo all'incirca un anno e mezzo fa, a cui stanno aderendo diversi comuni, per fare in modo che ci sia un controllo, anche eventualmente preventivo, su quelli che sono gli spazi pubblicitari, diciamo, a disposizione dei comuni, per quanto concerne la pubblicità delle aziende e dei prodotti. Ripeto, è un progetto assolutamente ambizioso, che noi ci proponiamo di sviluppare, diciamo, su tre fronti. Il primo fronte, quello che diceva prima la Presidente Fidapa Sabatucci, è il progetto Non compro più, quindi il fatto di sensibilizzare il consumatore donna, ma non solo, perché non esiste soltanto la sensibilizzazione della donna, la pubblicità può urtare anche l'uomo, non è detto che sia esclusivamente urtare la sensibilità della donna, può urtare anche la sensibilità dell'uomo. Quindi tant'è che ci sono anche degli istituti presso il Comune di Torino per segnalare, e presso anche gli altri comuni, per segnalare queste pubblicità. Quindi da un lato il progetto Non compro più, quindi cercate di evitare di comprare, e verrà ovviamente sviluppato attraverso i social media, i canali dei social media, che sono quelli, diciamo, a nostra disposizione. L'altro progetto, diciamo, l'altro fronte, è quello di sviluppare invece un progetto di legge, perché il problema è che manca una normativa nazionale. E infine il terzo progetto è quello di sensibilizzare le aziende pubblicitarie, le agenzie di pubblicità, a appunto attenersi a questi codici di autoregolamentazione affinché non facciano più pubblicità di questo genere. E per fare ciò stiamo lanciando... Sì, alle giovani pubblicitarie, grafiche pubblicitarie, un appello, eccetera, se vogliono partecipare a questo nostro progetto possono mandarci delle loro idee sulla grafica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.